Ecco, questi sono gli assorbienti di mister, una parte dei assorbienti, un gruppetto di mister Giuseppe Gian Cristoforo. Quando la palla esce, si sale, di corsa, si rimane a guardare, adesso ti stacchi dietro per giocare. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai! Bravo, dai, riparti, non la buttare! Ecco, si divertono i ragazzi. Ecco che ripartono, il mister Giuseppe dà le indicazioni ai ragazzi di essere più veloci. Ecco, si divertono i ragazzi. E' venerdì, l'ultimo giorno di allenamento di questa settimana. Ecco, si vede tutto il mant'erboso di Pia Olimpia, tutti riempiti di ragazzi, divisi in più gruppi, con i loro rispettivi mister. In fondo vediamo poi che c'è mister Nicola di Cambri. Oh, nido!